Difficile pensare che esista ancora qualcosa da scoprire nelle Cinque Terre, eppure i fondali dell'area marina protetta sono un paesaggio sommerso relativamente poco conosciuto, ricco di bellezze e di biodiversità, ed immergersi lì significa sperimentare l'incredibile. Per valorizzare questo incredibile patrimonio e la sua frizione consapevole attraverso i diving autorizzati, l'Enteparco ha realizzato una brochure ed un video dedicati ai percorsi subacquei presenti nell'area marina protetta. La brochure sintetizza le attività consentite nell'area protetta, riporta su mappe ed illustra in sintesi i punti di immersione con un focus sulle specie protette che si possono incontrare. Il video invece è un concentrato di emozioni nel blu, un vero e proprio tuffo dalle famose terrazze patrimonio mondiale dell'umanità Unesco nei fondali delle Cinque Terre, tra falesie a strapiombo, baie, grotte ed anfratti, rifugio di specie animali e vegetali e diversi habitat ancora tutti da esplorare. Insomma, sei punti di immersione in cui sperimentare l'incredibile, come recita il claim del video. Le Cinque Terre sono un unico grande organismo vivente in cui terra e mare si fondono senza soluzione di continuità, sottolinea la presidente del Parco Donatella Bianchi. Valorizzare il nostro mare rivolgendosi al mondo della subacquea, suscitarne la meraviglia e il coinvolgimento fisico ed emotivo, è utile per favorire l'interesse di un pubblico appassionato e attento alla natura, simulando la salvaguardia di questi tesori spesso sconosciuti e lo sviluppo di un'economia blu sostenibile per l'uomo e l'ambiente. La guida ed il video sono realizzati nell'ambito del progetto Girepam, gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine.